Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 3 novembre 2020. Cari telespettatori di Fano TV, siete sul canale 17 e questa è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che comincia come di consueto con l'almanacco, il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Andiamo subito allora a vedere il cartello di oggi, Santa Silvia, il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà alle 16.58. Tutto tace per quanto riguarda il tempo, nel senso che nella nostra regione anche per la giornata di oggi è previsto cielo poco nuvoloso, con sole che splenderà sulla provincia pesarese e anche sul resto della costa, ma un po' su tutta la regione Marche. Le temperature in lieve aumento, per domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, attenzione alle foschie nottetempo, ma giovedì 15, lo stesso a parte qualche fenomeno di banco di nebbia nei fondovalle al primo mattino, per il resto un po' di nuvolosità nella fascia costiera, ma niente di che. Tempo buono ancora e soleggiato per il resto della settimana. I giornali, subito in apertura il Corriere Adriatico, l'apertura è dell'edizione pesarese ovviamente, e il tema è quello della sanità. L'ospedale recluta medici, bando anche per infermieri e farmacisti. La protesta in piazza diventa light, ma si annuncia un quarto presidio. Acquaroli ordina le lezioni a distanza all'università, superiori a casa, si pensa ai rimborsi per gli abbonamenti. sugli autobus. È un po' una sorta di sommario di tutte le notizie più importanti del giorno. Intanto a centropagina si va verso il nuovo decreto, lockdown, marche a rischio moderato. E poi il numero verde, che è muto da giugno e complica la quarantena. Le notizie qui sempre in prima pagina, più in breve. I ladri sono tornati a Pesero in concessionaria, via con moto e caschi. Poi Mamiani, Perticari e i leoni alati, gioielli da ritrovare. Sempre da Pesero per il ponte pedonale sul Foglio, il pressing della minoranza è ok. Il titolo invece per quanto riguarda il resto del Carlino. 20 positivi trasferiti a Galantara, sono anziani provenienti dalle RSA di Macerata. Altri due decessi, poi aiuti per le imprese con bonus da 1.000 euro. La fotonotizia invece è per una ragazza di 20 anni, fanese, si chiama Valentina Berloni. Lei, eccola qua, nel tondo, una fanese tra le tate reali. Valentina, 20 anni, ammessa in un esclusivo college inglese. La vedremo tra poco. Premio Covid, si apre uno spiraglio, ora ci contano 1.700 dipendenti. Poi la protesta del ristoratore in Piazza del Popolo, una piazza semivuota, dire il vero. Carriera e i suoi stavolta hanno fatto flop. Caro istinto, vince la paura, ai cimiteri afflussi in calo. E poi, ed ecco la notizia di apertura di questa nostra segna stampa, cominciamo così questa mattina, il record di nonna Elisa. 107 anni, ha visto l'ospedale, pensate, soltanto una volta. La decana di bottega oggi compie gli anni e sta puntando a quello che è il record nazionale. Ieri c'è stato l'omaggio anche del sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli. L'avete qui in questa immagine. Nata a Urbino, zona Conce, nel 1913. Al governo c'era Giolitti. Due anni dopo sarebbe cominciata la grande guerra. Ieri Elisa Clini, di bottega di Vallefoglia, ha toccato e festeggiato 107 anni, portati con slancio da studiare in laboratorio per trovarne davvero il segreto. Pensate, non è stata mai male, mai preso una medicina. In ospedale c'è entrata soltanto a 102 anni perché si era rotta il femore che la costringe alla sedia a rotelle e non ha mai imparato ad andare in bicicletta, ma solo a piedi. Si è sposata nel 1939, ha tre figli, si trasferì poi giovanissima, eccetera, eccetera. C'è tutta la storia che racconta Damiani sul giornale di questa mattina. E sentite cosa dice uno dei figli, Girolamo. Mia mamma si alza tardi, verso le nove del mattino. Quindi ancora sta dormendo e ne ha ancora per due ore, perché ci seguo in diretta, chiaramente. Una buona colazione con latte e frutta, poi a mezzogiorno un bel piatto di pasta, le piacciono molto gli spaghetti, sonnellino alle 4 del pomeriggio con merenda e poi alle 18.30 la cena, magari rimangiando la pasta avanzata per il pranzo. E poi c'è un'altra cosa importante, perché sì, è vero arrivare a 107 anni, ma come ci si arriva? Lei è ancora lucidissima e non si dimentica niente, per noi figli è sempre uguale, non tradisce il passare degli anni. Peccato solo per questo femore rotto. E allora cominciamo così questa nostra rassegna stampa e adesso tenetevi forte, teniamoci forte perché ci sono le notizie che arrivano sul fronte Covid. Allora si torna con i piedi per terra e andiamo a vedere subito il titolo del primo piano del Carlino di oggi. Allora anche qui una benza buona notizia, nel senso che il virus corre, sì, ma con meno impeto. Le terapie intensive reggono, rallenta l'aumento dei ricoverati nelle rianimazioni, il numero dei decessi è in calo rispetto a sabato. Il sindaco di Milano forse dice hanno inciso le misure prese e il comportamento responsabile dei cittadini. Questa invece è la pagina 9 del Corriere, sempre del resto del carino, la pagina però nazionale. Perché ho selezionato questa pagina? Perché si parla di ciò che potrebbe essere inserito, ma probabilmente le anticipazioni verranno confermate, nel nuovo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede da domani alle 21 coprifuoco per tutti. Abbiamo già parlato di questa parola che è molto brutta, però la prendiamo giornalisticamente così per buona. Coprifuoco per tutti. Centri commerciali chiusi nel fine settimana. L'appello degli ipermercati, vogliamo gli indennizi, si litiga sulla serrata dei ristoranti la domenica a pranzo per il timore di riunioni familiari. E allora qui in questo articolo si fa un po' una sorta di anticipazione di quello che sarà da qui in avanti, saranno i nostri giorni, le prossime settimane. Quindi probabilmente si chiuderà alle 9 di sera in tutta Italia, dalle 21 non si potrà uscire di casa, bisognerà stare in casa. Il fine settimana i centri commerciali saranno chiusi, non si potrà andare a fare la passeggiatina nelle gallerie dei centri commerciali. Chiaramente, come è successo già nella prima chiusura totale, quindi il lockdown di febbraio-marzo, insomma giù di lì, rimarranno aperti i servizi essenziali, quindi gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, poi i tabaccai e anche le edicole. Quindi questo sì. Per quanto riguarda invece i ristoranti, bar, pasticcerie, è ancora da capire, perché bisognerà poi vedere regione per regione come vanno le cose. Ci saranno dei lockdown, tra virgolette, o zone rosse a seconda dell'indice RT. Più è alto e più la cinghia verrà tirata, e quindi ci saranno restrizioni. Bar, ristoranti, bisognerà vedere un po' come è la situazione nelle Marche. E nelle Marche, in questo momento, la fotografia di oggi è rischio moderato. Quindi non siamo ancora in zona rossa, non ci sono zone rosse, anche se ci sono delle province in cui i contagi sono molto alti. Però in questo momento, come ci riferisce il Corriere Triatio questa mattina, le Marche sono a rischio moderato, ma il quadro si aggrava. L'indice R con T sale e i ricoveri in rianimazione, che sono 50, sono raddoppiati in una settimana. Il coronavirus scorre nelle province di Ancona, 171 casi al giorno, e nella provincia di Macerata, dove se ne registrano 120. Con il nuovo DPCM le misure scatteranno in base a 21, pensate, 21 parametri. Quindi ci faranno gli ingegneri per stabilire questa volta come e che cosa fare. Poi bisognerà sperare che tutti capiscano tutto, perché insomma non è dato troppo per scontato. I pazienti Covid in ospedale sono saliti ieri a 384. Questa è la situazione che come sempre troverete sul Corriere Adriatico. Intanto Marche Nord recluta dottori ed infermieri e rafforza il personale. Si cercano figure professionali a tutti i livelli per affrontare l'emergenza in corso. Il bando riguarda anche i farmacisti, i tecnici e gli operatori sanitari. Previsti incarichi per sei mesi estesi ai medici pensionati, e poi al lavoro per potenziare altri blocchi operativi a Pesaro e a Fano. Come essere tornati a marzo? Dice invece Laura Biagiotti, che è la Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Pesaro. La situazione, dice la Biagiotti, si sta complicando sicuramente perché il personale infermieristico manca. Tanto che la stessa Asur richiede disponibilità di orari aggiuntivi per sopperire alla carenza di personale. Il fatto che cerchino anche medici e os ci fa riflettere. Se cerchiamo di dare più carichi di lavoro significa che il personale non è sufficiente. Ci sono, naturalmente, tutta questa situazione porta per gli infermieri, eccetera, porta a turni allungati. Abbiamo richieste di straordinari continue. Ci sono colleghi che lavorano anche 11 o 12 ore al giorno. A volte non si riesce neppure a garantire il riposo minimo di legge tra un turno e l'altro di 11 ore. Poi, chiaramente, saltate le ferie, è saltato tutto. Ma il dato, e qui volevo un attimo soffermarmi su questo perché leggendo l'articolo, ecco, mi è dispiaciuto un po' leggere queste parole qua della Biagiotti, che si riferisce a un fatto che purtroppo sta accadendo sulla rete, su internet. Il tutto in un clima non sempre positivo, come spiega appunto Biagiotti. Assistiamo con grande amarezza, ecco cosa dice, assistiamo con grande amarezza a insulti e commenti poco piacevoli sui social. Ci dicono che noi abbiamo scelto questo mestiere e non siamo eroi. Galantara, ospitati altri 20 anziani, provengono dalle RSA maceratesi, focolaio di contagi in due strutture del sud delle Marche ed è probabile che aumentino gli arrivi. Deceduto intanto un 68enne di Montefelcino, ricoverato da tre giorni a Marche Nord, soffriva di diabete. Mentre è stato multato durante una serie di controlli un passante senza mascherina. Si trovava domenica scorsa in Piazza del Popolo e poi in questo articolo si legge anche di una vetrina rotta da un petardo. Intanto comincia a soffrire il pronto soccorso, ricoveri raddoppiati, continua a essere positivo un caso su tre. I ricoverati restano alti e comincia a soffrire anche il pronto soccorso del San Salvatore, dove ieri i pazienti erano otto, esattamente il doppio del giorno prima. Mentre il numero Covid, qui parliamo del numero verde, quello che vi abbiamo detto, ripetuto e straripetuto nei mesi scorsi, il numero verde regionale è staccato da giugno e dalla Regione fanno sapere che lo riattiveranno comunque entro dicembre. L'ex segretario FIM CISL Bentivogli, che tra l'altro è positivo, critica la chiusura del servizio, mentre l'assessore alla Sanità regionale, Salta Martini, dice ho chiesto alle aree vaste un canale telefonico. E in effetti, questo è il numero di telefono che vedete qui in questo articolo, che è scritto sul Corriere Adriatico. Non so se possiamo fare una prova, proviamo a chiamarlo, chiedo al regista Riccardo Sora, se possiamo provare a farvi sentire che cosa succede se uno chiama il numero verde 800 936. Numero verde coronavirus Regione Marche. Dal 15 giugno 2020, per la progressiva diminuzione del numero delle telefonate ricevute, questo numero verde non è più presidiato da operatori sanitari. Per informazioni sanitarie, contattare il proprio medico curante. Nei giorni festivi e prefestivi, contattare il servizio di guardia medica. Per informazioni collegate a spostamenti, viaggi, ordinanze, contattare la prefettura territorialmente competente o la sala operativa della protezione civile della Regione Marche. Per informazioni di carattere generale, contattare il numero verde nazionale 1500. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.regione.marche.it, sezione coronavirus. Capito nonno? Adesso magari prendo un paio d'ore di permesso e ti vengo a spiegare tutta questa cosa qua. Vabbè, questo a parte le battute, insomma, per dirvi come è bloccato lì, non c'è, è fermo, si parla addirittura di calo, di coronavirus, quando invece siamo qui a parlare di tutt'altro, a questo punto tanto valeva staccarlo e non omettere una voce registrata che dice stiamo lavorando per voi e abbiate pazienza. Comunque, questa è un po' la situazione, così ve l'abbiamo fatta sentire e comunque vedete come sono tutte cose complicate, bisogna chiamare lì, là, eccetera. Pensate a una persona anziana che oltretutto non è così tecnologica, già va in confusione subito dopo le prime parole. Area vasta, più vicini i premi Covid invece, fino a 690 euro per 1700 dipendenti, l'annuncio è dei rappresentanti di CGL e Cisle Will dopo un confronto con i vertici Azure. Il riconoscimento riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio. Hanno affrontato un'emergenza pari alla Lombardia. Mentre 1.000 euro per le imprese più colpite, ma solo 100 avranno i soldi, qui è la pagina di Pesaro e la quota del milione che il Comune di Pesaro ha riservato ai bonus blocco attività. Precedenza a chi lavora nel settore del turismo, intrattenimento, eventi, cerimonie e anche noleggio auto e servizio taxi. E sul fronte economico, ieri c'è stata la manifestazione, il sit-in di protesta di quel ristoratore, Umberto Carriera, che aveva già protestato la settimana scorsa con tanta gente al seguito. Era finito alle ribalte nazionali per aver sfidato la legge tenuto aperto il suo ristorante anche dopo le 18. Ristorante che poi è stato prontamente chiuso per 5 giorni, poi è stata prolungata questa chiusura di altri 15 giorni per tutta una serie di situazioni che sono poi venute emerse dopo. La protesta in piazza però perde pezzi, titola il Corriere Adriatico, ma già si annuncia il quarto sit-in. Dopo una vigilia convulsa, adesioni inferiori rispetto ad una settimana fa, un centinaio con Carriera. L'Oreca invece e l'Associazione dei Ristoratori che aderiscono alla Confcommercio si smarcano e rilanciano un'altra iniziativa, un altro sit-in di protesta, che è sabato prossimo, un altro presidio dove dovrebbero esserci tutti i ristoratori che aderiscono a questa associazione di categoria. Carriera torna in piazza invece, titola il Carlino, ma la folla non c'è, seconda protesta del ristoratore a cui hanno sospeso la licenza per 15 giorni e fatto due sanzioni. Mi controllano sempre. Ora sentite cosa scrive sempre Damiani sul giornale di questa mattina a proposito di Carriera di questo ristoratore. Carriera ha fatto notare questo fatto al megafono. Lui ha detto sono controllato dalla polizia peggio di un delinquente. Mi seguono, vengono davanti ai miei ristoranti come se fossi un pericolo pubblico. Dovrebbero invece arrestare gli spacciatori e i ladri piuttosto che controllare me e la mia famiglia. Quello che il Governo sta facendo è una follia. Dovrebbero vergognarsi, dovremmo convivere con il virus e per chissà quanto tempo non possono tenerci chiusi. Mentre sull'altro fronte, quello delle associazioni di categoria, parla Mario Di Remigio che dice ci dissociamo dalla manifestazione, la nostra sarà sabato prossimo alle 18.30. Ma chi è questo personaggio? Chi è Umberto Carriera? Umberto Carriera scrive il giornale Trentenne dichiarandosi titolare di sei ristoranti e balzato alla cronaca per aver organizzato una settimana fa una protesta, una prima protesta in piazza contro il lockdown e poi per aver portato a cena 90 persone nel suo ristorante in centro dove è arrivata la polizia fatto sgombrare con multa e sospensione della licenza per 15 giorni. Umberto, l'uomo che voleva farsi re. Ci fermiamo perché andiamo a vedere un attimo la pagina degli spettacoli del Corriere Adriatico. Pagina degli spettacoli che parla di un programma che inizia questa sera su Fano TV, la tredicesima edizione di Guarda Chi C'è. Ma attenzione, andiamo qui sul giornale. Qui c'è il volto che molti di voi sicuramente riconosceranno, il volto noto di un conduttore televisivo che si chiama Paolo Notari. Sarà proprio lui, Paolo Notari, il nuovo conduttore della tredicesima edizione di Guarda Chi C'è, uno dei programmi più longevi della televisione regionale che torna oggi alle ore 20.50 su Fano TV con la prima puntata dedicata al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Dopo lo stop di marzo, infatti, la trasmissione ideata da Nicola Zari riparte e sarà in onda ogni martedì e giovedì in prima serata. Paolo Notari, in Rai dal 2003, originario di Fabriano, ha collaborato tra gli altri con La Vita Indiretta, Sereno Variabile, Agorà, ma il suo cuore rimane nelle Marche. E dice, per 13 anni, la domanda è quali saranno le novità di questo format che lancia anche Fano TV, per 13 anni si sono raccontati eventi, fatti e personaggi, dice Notari, legati alla provincia di Pesorubino, da quest'anno, lo sguardo si allarga e racconteremo dei personaggi marchigiani che meritano visibilità nazionale. Oggi la prima puntata con il neopresidente della Regione. Sveleremo, dice Notari, sveleremo la sua normalità, il fatto che non ha nessuna intenzione di modificare la sua vita privata. Scopriremo le sue passioni per la natura e lo sport, nonché la sua fede calcistica. Ci può svelare anche qualche altro personaggio, due nomi in particolare, Giancarlo Trappanese, che proprio il Corriere Adriatico iniziò la sua carriera di giornalista, è andato in pensione di recente dopo aver diretto la sede RAI di Perugia e l'altro è Donaldo Bonaiuto della comunità di Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. E poi c'è la scelta di andare nei luoghi cari degli intervistati anziché ospitarli in uno studio televisivo. Una scelta vincente perché mette a proprio agio gli ospiti che si aprono quindi con maggior naturalezza. Ecco, questa è la pagina degli spettacoli del Corriere Adriatico che ci fa da promo e quindi ci dà l'occasione di lanciarvi l'appuntamento di questa sera alle 20.50. Adesso torniamo nelle pagine dei giornali. La nostra selezione arriva a Fano, nella pagina di Fano del Resto del Carlino dove si parla della follia di Halloween, la follia a Sant'Orso, ma io non mi arrendo parla Paola Stolfa coordinatrice del progetto Fano Città dei Bambini nato proprio nel quartiere più problematico della città. L'effetto branco dice qui funziona benissimo ma non so se presi isolatamente questi ragazzi siano davvero irrecuperabili. Il contesto sociale c'è un gruppo di teppistelli in grado di attrarre altri ragazzini però quei giovani non sono tutti di questa zona dice Piero Valori che è vicepresidente del consiglio comunale e che abita in quel quartiere. Intanto di questi dieci ragazzi terribili titolo del Carlino dieci ragazzi di loro sono stati già individuati ma è polemica l'assessore Cucchiarini dice tutte le pattuglie di polizia locale impiegate in zona ma i 5 Stelle dicono dovreste prendervela con voi stessi le indagini sono ancora in corso i ragazzi rischiano conseguenze amministrative a loro carico le spese per riparare i danni provocati e poi rischiano anche conseguenze penali perché c'è stato qualcuno che ha offeso un pubblico ufficiale hanno fatto danni alla cosa pubblica e vandalismo quindi i responsabili rischiano comunque grosso. Vandali di Halloween a Sant'Orso il titolo del Corriere Adriatico al vaglio le immagini delle spy cam anche oggi la nostra bella dose di inglesismo che non manca mai spy cam che sarebbero le telecamere in italiano spy cam è telecamere il comitato il comitato genitori chiede l'istituzione di un presidio giovani che lavori per ristabilire l'ordine mentre le voci della politica locale a proposito di questo fatto dicono questo governo della nostra città è troppo passiva lo dice la Lega mentre 5 Stelle la prevenzione è sconosciuta per il comune sotto invece sul fronte delle indagini la comandante della Polizia Municipale Montagna dice rafforzeremo il sistema di videosorveglianza sempre dal Corriere gli hotel alzano bandiera bianca porte sbarrate anche agli annuali spariti pure i lavoratori forestieri molti pensano alla riconversione covid insomma praticamente con la fine di ottobre la gran parte degli alberghi fanesi e questa volta anche diversi di quelli che erano soliti praticare insomma un'apertura annuale hanno preannunciato la loro chiusura salvo qualche qualcuno che conta di ricevere contributi regionali quindi probabilmente qualcuno che vorrebbe fare appunto il covid hotel mentre primarie e medie completato il rinnovo degli arredi mascarin dice il materiale garantisce un più agevole distanziamento andiamo velocemente sulle altre pagine ecco come imparo ad accudire i bebè reali Valentina Berloni è ammessa all'esclusivo college inglese Norland da cui provengono le bambinaie dei figli di William e Kate c'è una fanese tra le magnifiche cento ammesse alla scuola di Mary Poppins il prestigioso college inglese che sforna le tate delle famiglie reali e le babysitter dei VIP di tutto il mondo quelli che al posto di fare la pupù fanno le pepite d'oro evidentemente e quindi hanno bisogno di una tata precisa che non sprechi nulla e non butti via nulla quindi lei adesso a parte gli scherzi si chiama Valentina Berloni ha 20 anni è la figlia dei titolari dell'omonima gioielleria del Pincio una ragazza fanese come tante cresciuta all'ombra dei giardini Roma del Pincio di Fano che ora sogna di girare il mondo e aprire un suo asilo a Singapore e per ora è l'unica italiana che fa parte di questa scuola ora volato giù dal balcone di casa ce l'ho fatta dice ora il recupero in coma dal 28 settembre Armando Ciaschini ieri ha chiamato gli amici al telefono lui Armando Ciaschini appunto che è tornato a salutare gli amici parenti in queste giornate tra l'altro anche segnate dal luto per la scomparsa di Don Almerino Giuliani tirano tutti quanti il sospiro di sollievo per le sorti di un altro loro concittadino che era stato ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni dopo essere caduto dal balcone di casa mentre faceva lavori di manutenzione l'incidente era avvenuto il 28 settembre scorso intanto ricordiamo che oggi lo ricorda anche il giornale a Sant'Agostino ci sarà l'ultimo saluto a Donald De Miro il funerale dell'amatissimo prete sarà tumulato poi nella cappella dei sacerdoti e siccome ci sono le restrizioni e tutto quanto i funerali si terranno a Mondolfo oggi alle ore 15 nella chiesa monumentale di Sant'Agostino trasmessi in diretta da Fano TV e poi Donald De Miro sarà tumulato come abbiamo detto nella cappella dei sacerdoti di Mondolfo fra le tombe più dell'affetto potè la paura pesaro gli anziani escono meno mascherine e timori del contagio eppure l'afflusso c'è stato distribuito nei giorni gli ingressi contingentati invece a Fano nei cimiteri a flussi in calo e anche gli affari fanno piangere sia al centrale che a Rosciano e all'Ulivo le folle di visitatori degli anni scorsi sono soltanto un ricordo controlli da parte della polizia locale che aveva un presidio fisso identificato solo un mendicante l'assessore al cucchiere indice visite in piena sicurezza a merito anche dei cittadini che hanno osservato le regole mentre sulla intanto qui si riporta sempre nel sito nel sito del resto del Carlino appunto anche quello che c'è stato ieri ieri mattina nel corso della giornata della mattinata con le visite nel giorno della commemorazione delle Funti assenti per lo più gli anziani tranne in qualche rara eccezione il Vescovo Armando Trasarti alla presenza del sindaco Massimo Serri di tutte le autorità civili e militari ha celebrato la messa in onore dei Funti ieri mattina alle 10.30 e durante l'omelia l'alto prelato ha richiamato l'attenzione sul senso cristiano della sofferenza che in questo momento difficile di pandemia molti hanno affrontato a causa della perdita dei propri cari andiamo andiamo direttamente sulla pagina dello sport perché è tardi per dirvi semplicemente che Alassandrini è stato esonerato paga per tutti e il Fano si affida al nuovo allenatore che si chiama Destro è tutto grazie per aver seguito la rassegna stampa del giorno vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 arrivederci grazie